Torniamo in Italia, udienza a porte chiuse ieri nel processo per i cosiddetti veleni di bussi, la discarica alle porte di Pescara che avrebbe inquinato le falde acquifere della zona. 700.000 le persone coinvolte, 19 gli imputati, quasi tutti ex amministratori e vertici della Montedison, accusati tra l'altro di inquinamento delle acque. Il nostro inviato Matteo Parlato ha intervistato il carpo della Guardia Forestale di Pescara. Siamo nella discarica di Tremonti, qui accanto scorre il fiume Pescara. Il comandante del Corpo Forestale dello Stato, voi avete sequestrato questa discarica. Approssimativamente quanto materiale c'è sotto i nostri piedi? Guardi, dai sondaggi che furono fatti nel 2007, su questa superficie che vede di circa 3,5 ettari, si è stimata una presenza di diverse centinaia di migliaia di metri cubi di materiali inquinanti. Sotto i nostri piedi, oltre alla discarica, c'è anche una falde e lì scorre il Pescara. Cosa si sta facendo per evitare che la discarica contamini il fiume? Guardi, il progetto di messa in sicurezza del sito predisposto dal commissario ha inteso isolare il cumulo di rifiuti sia dagli apporti meteorici sia dal contatto con le acque di superficie. Quindi è stato realizzato in primis quello definito capping, cioè è stato isolato nella parte alta il cumulo dei rifiuti. Sotto i nostri piedi c'è come un telo che è l'isola della pioggia? Esattamente, c'è uno strato impermeabile che isola il cumulo dal contatto con le acque meteoriche. Di fatto poi il contatto con le acque di falda, quindi lo scambio orizzontale, è stato limitato e viene oggi messo in sicurezza dalla realizzazione di questo diaframma in palancole metalliche che vedete infisse fino ad attestarsi sullo strato impermeabile che c'è sul sottosuolo. La falda idrica, c'è la falda idrica che viene da Monte, quindi dalla Valle Peligna, e la falda idrica che viene dal Tirino. Quindi qui si ricongiungono e procedono verso la Valle del Pescara. Ovviamente siamo sopra un incrocio di fiumi sotterranei? Di falde freatiche sicuramente. Siamo in una valle, quindi fra due massicci montuosi, il Morrone da una parte e la Catena del Gran Zasto dall'altra parte, quindi è chiaro che le acque defluiscano. E ci hanno fatto una riscarica sopra? A quel tempo ci fece una riscarica sopra.